Sì sono eh, finiamo tutte le cose. Allora no che sto facendo? Un casino come sempre. Allora mettiamo la music pure troppo alta ok meglio forse al 2% però un po' poco 7% dovrebbe andar bene. Allora 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 aggiungi foto video non ho messo però stolto me. Devo aprire google drive oddio in realtà forse non era così. Necessaire. Sentite che francese, 3 anni francese alle medie eh. E' un viaggio pure in Francia. E' normale che sia così buio. Provo accendere un'altra luce perché è veramente triste così la selezione. Non credo sia cambiata molto però. Vabbè dai più o meno. Ho avuto una bella idea di sciacquarmi i capelli prima di andare in live quindi sono zuppo. Forse dovrei mettere una luce qui in effetti. O lì. O lì. Non forse dovrei prenderne quella del bagno. Non importa mi vedrete al buio. D'altronde sono insomma un bonteficio del mana nero. Mica del fottuto mana bianco. Ehm. Forza un po'. Sì. Dio Cristoforo. Dio Cleziano. Mettiamo un'immagine di Tezzerator. Tezzerat. Ricordiamoci di mettere il silenzioso come sempre. Che ovviamente io me lo dimentico sempre. Sempre. Me lo squerdo sempre. Master of Metal. Terza live sui fumetti boom cominciata. Solo su Twitch. Allora ecco qua. Prendiamo anche. Sì. 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 Ok. Perfetto anche Twitch monitor nel frattempo si è svegliato, si è svegliato! DigiLiveLore, baste, with Telegram, ok, poi... Dai, era troppo fastidio la musica, era troppo alta per i miei gusti! Dove dai? Dai! Condivido in feed... Mi manca a questo punto solamente YouTube. Allora immagine, seleziona... Mettiamo un tezzeretta... Battle of the Breach... Battle of the Breach... La battaglia sul ponte... Al ponte... Allora, allora, allora... Dunque, eccoci qua! Finalmente possiamo dare inizio alla live! Ho finito lo spammino introduttivo, aspettiamo ancora un paio di minuti e poi iniziamo con l'argomento della serata, iniziamo ad introdurre l'argomento... Non so se lasciare questa copertina... Mi sa che però no, metto questo sfondo qui... Sì, mi piace di più questa... Finestra... Se poi vi devo far vedere qualcosa dei fumetti... Se devo mettere qualcosa dei fumetti... Va bene lo stesso... Cioè... Cambio... Cosa... Avete capito... Famo che avete capito, va? Oh... Mettiamo un po' di Alara... Che... Oh... Che bella... La cuspide... Di Alara... Di Esper... Che esce nel terreno di Grixis... O è Giund... Chissà... Secondo me è più Grixis visto che confinano... Comunque... Detto ciò... Tra l'altro vi ricordo anche che su Innistrad... Nel gruppo Innistrad... Ho fatto uscire di recente un piccolo commento diciamo... Sulla... Sugli eventi più recenti di March of the Machine... Ehm... Quindi mi piacerebbe che anche... Mi piacerebbe avere un po' di idee e sentire cosa ne pensate insomma... Perché per l'appunto è una... Una discussione aperta... Sulla Spark Rupture... Quindi questa cosa... Questo evento... Che ha portato alla... Descentillizzazione di un sacco di Planeswalker... L'abbiamo visto in un set di Aftermath... E dunque... E dunque... E dunque... E dunque è una discussione sul fatto che sia... In realtà secondo me è più che un bene... Perché potrebbe essere... Diversamente dalla riparazione... Che non andava a risolvere gran... Molti dei problemi che avevano le storie con i Planeswalker... La Spark Rupture... La rottura... Invece... Sembra proprio fatta apposta... Per... Per togliere alcuni dei problemi... Della... Degli autori... Che si trovavano con un cast immenso di Planeswalker... Un sacco di problemi... Che ho discusso... Ne parlava già Dog Bayer... Nel 2000... Lontano 2009... Quando era appena uscito Frammenti di Alara... I Planeswalker... La novità del momento... Erano in pieno... In pieno momento di gloria della narrazione... Quindi analizzando quei quattro punti... Quei quattro problemi... E le soluzioni proposte da Bayer... Mi sono reso conto che effettivamente... La Spark Rupture... E il fatto che ci sia Kellan... Come protagonista dei futuri set... Sia forse una cosa positiva... Speriamo sia una cosa positiva... Me lo auguro... Le possibilità ci sono... Speriamo che vengano portate avanti... Ma detto ciò... Quindi andate subito a fare l'iscrizione... Al gruppo Innistrad su Facebook... Detto ciò... Direi che possiamo effettivamente... Dare inizio alla live... Quindi... Introduzione all'argomento... Più che altro... Introduzione all'argomento... Abbiamo fatto... Questa è la terza live... Dedicata ai fumetti Boom... Editi da Panini in Italia... Ed editi da Boom Comics in America... Appunto... Negli Stati Uniti... E... Per ora abbiamo visto quindi... La storia... Questa storia... Alternativa... Sto facendo... Sto buttando giù tutto il possibile... Trattasi appunto di una... Di una sorta di ucronia... Se vogliamo... Di storia alternativa... Nella quale diversi eventi... Sono andati in maniera differente... Non sono canonici... Quindi è una storia non canonica... Più un what if... Se vogliamo... Che riprende da... Immediatamente dopo gli eventi... Di War of the Spark... E abbiamo visto che... Tratta diversi... Diverse parti della storia... Parla di... Affrontando... Il punto di vista di... Tre planeswalker... Quindi qui abbiamo ancora i planeswalker... Ancora protagonisti della narrazione... Abbiamo Raal... Raal... Kaia... E Vraska... Che sono stati... Attaccati... Da un gruppo di misteriosi assassini... Jace Beleren... È stato a sua volta... Colpito e ferito... Da questi assassini... Ed è finito in una specie di coma... All'interno di un ospedale... È stato portato in un ospedale... Di senza gilda... Ma andando avanti con la narrazione... Mentre le gilde... Cominciavano ad accusare i Dimir... I tre capogilda... Si sono accorti invece... Che i Dimir sono innocenti... L'Azav ha detto loro... Che i Dimir sono innocenti... E che in realtà... Dopo aver parlato... Anche con... Aver trovato... Jaya Ballard... Si sono fatti raccontare... Che cosa veramente... Stia succedendo... Ossia Ravnica è stata invasa... Tra virgolette... Da questi... Cultisti di Marit Leij... Che... Si nascondono in realtà... Dietro le... Dietro le... La facciata di questo ospedale... Senza gilda... Si nascondono questi cultisti... Di Marit Leij... Antica divinità... Planeswalker... Creatura... Malefica... Venerata sul dominario... Tempi dell'era glaciale... Che già gli aveva spedito... Nella cieca eternità... Sotto forma di... Cometa di ghiaccio... E quindi... Da quel punto... Da quel punto in poi... Bisogna capire... Cosa ci fanno... Questi strani tizi... Su Ravnica... E in tutto ciò... Che cosa c'entri... Anche Tezzeret... Che comunque... Era lì... Che osservava... I capi Gilda... E... La loro battaglia... Diciamo... Non la battaglia... Ma il fatto che... Ci fosse della sfiducia... Nei confronti delle Gilde... Ecco... Era tutto soddisfatto... Di questa sfiducia... Nei confronti delle Gilde... Abbiamo letto quindi... I primi sei capitoli... E abbiamo chiuso... Con Giaia... Che andava... Di fronte... Alla camera del patto delle Gilde... Il cittadino vivente... Ossian di Mizzet... A raccontare... La sua storia... Con Marit Leij... Il fatto che abbia affrontato... I cultisti di Marit Leij... Nel lontano passato... Ai tempi dell'era glaciale... E... E... Si chiudeva appunto... Con Giaia... Che diceva... Io so che è Marit Leij... E... Ragazzi miei... O facciamo qualcosa... Oppure... Sono cazzi per tutti... Andiamo quindi... Ricominciamo quindi... La lettura... Dal capitolo 7... Ravnica... L'ospedale del cuore di ghiaccio... Quindi l'ospedale... Controllato dai cultisti di Marit Leij... Amate... Amate... I nostri fedeli all'interno della gilda... Riferiscono che il patto della gilda ha votato... Attaccheranno... Era inevitabile che la soffilire così... Ovviamente farò sempre... Piccola nota di costume... I rileggendo sono... Le live... Di rileggendo sono i live in cui... Leggo i fumetti... O i libri... I racconti... Facendo le voci stupide... Sappiate... Era inevitabile che la soffilire così... Eseguiamo i suoi ordini in segreto... Ma con zelo... Non parla con la remossa... Ma io ho deciso di sì... E ora giunge il momento in cui dobbiamo eseguire i suoi ordini in pubblico... Che il nostro zelo si trasformi in gioia... E condivideremo quella gioia con tutta Vavnica... Iniziate a pre-pavare i pazienti... La camera del patto delle gilde... Sala di guerra... Dobbiamo colpire in fretta... Questa è la vina che... E se è la Zorius... Non ha un briciolo di emotività... Anche se il patto delle gilde ha decredato che l'ospedale e il suo culto ora sono nemici di Ravnica... Resta il fatto che nell'ospedale ci sono ancora molti pazienti innocenti... Una squadra d'assalto della Zorius sonderà le porte e arresterà... Questa non è un'operazione politica la vina... È militare... La legione Boros prenderà il comando... Dice Aurelia che parla appunto... Come se fosse Mussolini... Perché Aurelia, per chi non lo sapesse... Era molto... È una nostalgica del ventennio... La cara Aurelia... Tutti che dicono che è comunista perché c'hai il pugno alzato... In realtà i Boros sono i più fasci di tutta Ravnica... E questo è un discorso che abbiamo fatto più volte anche durante la live in cui andavamo a parlare della gilda Boros... Caia, Vrasca, dobbiamo parlare... Sarà un disastro... Le gilde si mettono in bastoni tra le ruote a vicenda... Per questione di giurisdizione... Quando dovremmo intervenire subito... Come un fulmine... Questo è Ral... Zarek ha ragione... Che l'idea mi aiuti mio... Concordio persino con la frase è come un fulmine... E questa è Caia che parla in corsivo... Lo sapevo che ti saresti convertita... Cosa suggerisci... Dice Vrasca che invece parla con la S... Attacchiamolo in ospedale... Ora... Sentite solo questioni di logica... Se il culto di Marit Leija è riuscito a muoversi impunemente all'interno di Ravnica... Dobbiamo presumere che sia riuscito anche a infiltrarsi nelle gilde... Ho vagliato tutte le ipotesi nel corso della notte... E' l'unica cosa che abbia un senso... Quel poco vantaggio che ci concede il fattore sorpresa... Si riduce a ogni secondo che perdiamo... Quindi propongo di fare un viaggio interplanare fuori da qui... A dominare, a X, ad una zennica non ha importanza... Per poi tornare direttamente a Ravnica... Non specificamente all'ospedale... All'interno dell'ospedale... E' un piano avventato... Si è perfetto... Allora questo è il nostro obiettivo... E speriamo che vada tutto bene... Dobbiamo trovare l'abbati e polverizzarlo prima che capi qualcosa di pezio... Dice Kaia una volta arrivati dentro l'ospedale... Dobbiamo trovare Jace... Da come si sono messe le cose... Credo che quando ne troveremo uno... Troveremo anche l'altro... C'è troppo silenzio... Questo dovrebbe essere un ospedale... Oh oh... Non ci abbiamo pensato... Ricordate cosa ha detto Jaya Ballard... Jaya Ballard... I prescelti di Maritlej traggono potere dalla morte... Dai sacrifici... E se devi avere dei sacrifici a portata di mano... Quale copertura migliore di un ospedale... Sapevano che le gilde sarebbero venuti a prenderli stanotte... E hanno svuotato la dispensa per prepararsi a dovere... Sarò non è ancora partita la pubblicità in tutto ciò... Vabbè... Sti cazzi... Ricordate... Colpite con forza... Colpite in fretta... E mantenete le perdite al minimo... Li colpiamo prima che capiscono cosa sta succedendo... E chiudiamo la questione prima che del generi... Dice un soldato a Zorius... Attenzione... In nome del senato a Zorius... Ora faremo irruzione... Title drop del... Di gate... Del secondo set di Ritorno a Ravnica... Siamo autorizzati a usare la forza contro qualsiasi resistenza... No... Nessuna resistenza... Dice una voce inquietante... Dalle porte... Che fuoriesce dalle porte aperte... Dell'ospedale di Marit Lage... Sono un abbraccio... Per Marit Lage... Dice una creatura mostruosa... Dalla lingua lunghissima... Che sembra una specie di... Con un sacco di occhi e tentacoli... Sembra un po' un alien... È abbastanza orribile in effetti... È abbastanza mostruosa... Infatti parla da... Come un mostro... La squadra di sfondamento ha incontrato resistenza all'ospedale... Voglio una squadra di Cavaliere dei Cieli... Che fornisca il supporto immediatamente... Non è troppo tardi per... Capoginta! La città! È impazzito! Spiegati! Per Marit Lage... Dice un tizio Izet... A caso... Che sta... Facendo esplodere qualcosa... Ci arriva la segnalazione di attacchi all'infrastratura cittadina... Ci sono incendi in vari distretti... Mostri Selesni e Grulli scorrezzano per le strade... C'è un elfo Selesnia... A cavallo del Wurm... Quello... I Wurm... Di forma fallica... Ce l'avete presente... Quelli di Venuta del Wurm... Per Marit Lage... Un'ondata omicida... Per Marit Lage... Urk... Quindi... Un Izet... Uno scienziato Izet... Una... Un... Cavaliere di Wurm... Selesnia... E un... Centauro... Si dirà... Un... Un Grulli comunque... Che... Tra l'altro... Il Grulli viene preso ammazzate da Borborygmos in persona... Stanno facendo dei danni... Capogilda... Mettete in allarme le altre gilde... Questa ora è una minaccia su scala cittadina... No... Però così tolgo tutto il pathos... Mettete in allarme le altre gilde... Questa ora è una minaccia su scala cittadina... Porgetelo in vita la legione Boros... A quanto pare... Siamo davvero in guerra... Eh... Meglio così... Più... Più pathos... Va bene fare i cretini... Però a un certo punto anche un po'... Quando i fumetti meritano... Quando la storia merita... Va bene farsi prendere dal pathos... Molte armi... Molte occhi... Molti denti... Ma un solo cerveglio... Stiamo sprecando tempo a farci strada in questo covo infernale ammazzando mostri... Zarek... Scatena la tempesta... Lasciatemi dire che sono commosso nel sapere che avete abbracciato tutte e due l'uso delle mie frasi da battaglia... Significa molto per me... Boom... E fa esplodere tutto Rall... Rall Zarek... Cosa? Nivizet? Perdona la mia intrusione telepatica a capo Gilda... A quanto pare avevate ragione sull'entità della minaccia... Le cellule dei seguaci hanno colpito le autorità di Ravnica a ogni livello... Dove ti... Dove ti trovi? All'ospitale... Mentefiamma... E se posso aggiungerlo... Io l'avevo detto... Mi scuso raramente Zarek... E mai due volte... Non sfidare la fortuna... E i pazienti... Tutti morti... Sacrificati per ottenere potere... Arrivo da voi... Dice Nivizet che parla con voce robotica... Perché in questa realtà alternativa... Dopo essere morto è resuscitato come... In un corpo... Diciamo inserito nel suo spirito in un corpo meccanico... Era Nivizet... Proprio lui... Dice che la città è assediata dagli agenti del culto... Che la minaccia è più grave di quanto avessero pensato in origine... Gliel'aveva a mio detto... Non insisterei se fossi in te... È di pessimo umore... Uccidiamola Abate... Uccidiamola Abate... Sarà finita... E se gli conviene pregare con tutto il cuore... Che la sua disinità mostruosa... Che Jace sia ancora viva... Zonot 7... Guerrieri Simic magicamente evoluti... Combattono contro gli invasori mutanti del culto... Rix Mahadi... Il demone Rakdos... Esprime chiaramente cosa pensa dei culti concorrenti... Spadapam... Ah tra l'altro nella storia dei culti... È vero... Mi sono dimenticato di Rakdos... Adesso parlo anche io in corsivo... La scorsa settimana abbiamo fatto la... Abbiamo... Necrosera Loremon... Buona Necrosera... Siamo qui a parlare del... Stiamo leggendo il fumetto del album numero 2... Stavo dicendo che... Mi sono dimenticato di parlare dei Rakdos... Nella live dedicata ai culti... Di giovedì scorso... Mannaggia... Vabbè rimedio... Farò un piccolo aggiornamento... Bonus... Stasettimana qui... Dicevamo... Zonot 7... Se i guerrieri simic magicamente evoluti... Combattono contro gli invasori... Non tanti del culto... Rix Mahadi... Il demone Rakdos... Esprime chiaramente cosa pensa dei culti concorrenti... Concordance... Non... Mi sfugge dove sia Concordance... Avrei detto Vitu Gazzi... Però vabbè... I cacciatori Selesnia... Lottano contro le pervezioni... Della natura... A loro così cara... Nevix... I forgiamaghi Izzet... Mettono alla prova le loro invenzioni... Sugli invasori... Correndo gli stessi rischi dei loro nemici... Si parla di Boomix... Ovvero l'unico contenuto rinunistico di magic... Che io scelgo di non conoscere... No... Invece dovresti Loremon... Ti perdi tanto... Se devi scegliere qualcosa da non conoscere... Scegli Dominoria... Scegli The Quest for Khan... Scegli Forsaken... Scegli War of the Spark... I Boom Comics invece... Valgono proprio la pena... Ok... Non sono canonici... Ma... Sono belli... Sono belle storie... Ti dico... Non so se c'eri già... Quando cinque minuti fa... Ho smesso di fare le vocine... Perché ero troppo preso dal pathos... Ah... Ti influenzerebbero nel tuo teorizzare... Non essendo canonici... Considera che c'è Marit Leij... Che viaggia come cometa... Nella cieca eternità... Quindi... Già quello... Orzova... I mutanti del culto... Scoprono che ci sono cose... Ben peggiori di loro... A infestare le sale del sindacato Orzov... Skarag... I clan rule... Ritengono che la distruzione di Ravmika... Sia una responsabilità... Che spetta solo e soltanto a loro... Korozda... I guerrieri dello sciame Golgari... Sono impazienti... Di riempire i loro giardini di cadaveri... Con chiunque... Capiti loro a tiro... Parelion II... Non il Sol di Mona... La legione Boros... Di farne ciò che è suo... Da un certo punto di vista... Ti invidio Beleren... Abbiamo detto che parlava con la voce... Con la voce... Con l'area remossa... Con la tua mente... E il potere che va chiude... Davrei tutto... Farei di tutto... Per di parlare con la mia terribile madre... Come puoi fare tu... La mia mente... Il mio corpo... La mia anima... Tutto... Ah... Ma non è questo il mio destino... E sono grato... Grato... Del dado tedesco... All'improvviso... E sono grato... Grato... Per i doni... Che ho ricevuto... E i doni... Che posso offrire a lei... Come questa città... Per esempio... Quindi... Addio... Gesbeleven... Sei servito al tuo scopo... Ma la tua meravigliosa mente telepatica... Brillerà come un favo... Per la mia dolce maritlage... Fermo... Non farlo... Dice Vrasca... Altrimenti... Il favore di mia madre... Mi protegge dal tuo sguardo... Pietrificatrice... Capogilda Vrasca... E non credo proprio... Che scatenevai la tempesta... Quando sono così vicino al tuo amico... Capogilda Vras... Zavec... Ah... Scusa... Quando sono così vicino al tuo amico... Capogilda Zavec... C'era una virgola... Me la sono persa... Per quel che vale... Sono impressionato... Dal fatto che siate avvivati fin qui... Quando ho ordinato ai miei fedeli di colpirvi... Volevo solo seminare il caos tra tra le gilde... Ma voi tre... Vi siete dimostrati... Soppellentemente... Intvapendenti... Intvapendenti... Un momento... Tre... Dov'è la terza? Ed è dietro di lui... Una mano spuga dal terreno... Odio questa parte... Ghiallo... Il tizio... Il cultista... Cerca di pugnalare Jace... Ma troppo tardi... Kaya se l'è portato via... Su Dominaria... Apparendo sul tavolo da pranzo di Teferi... Oh... Ah... Crat... Ah... Dice gli ambi... No... No... Dove è andato... Dove tu non puoi raggiungerlo... È finita Abate... Ravnica non cadrà mai... Sotto il dominio di Marith Lage... È questo che credi... Povevo stupido... Abbiamo già vinto... Con la nostra fede... Con la devozione... La nostra madre... La cometa... Stolti... La cometa... La... Cometa... E arriva Liv Mizzet... C'è la splash page... Questa merda di farvi... Aspetta... Scusate... Ho sbagliato... Splash pageona di Liv Mizzet... Che arriva e si mancia... Il povero stronzo... Mamma mia... Come funzionano bene... In fumetti... Fatti bene... Funzionano bene... Quelli che non sono... Dell'armada comics... Wosh... Croc... A quanto pare... Il capo del capo delle gilde... Ci tiene ancora... A mandare un messaggio... Pensavo che avesse smesso... Di surclassarmi... Quando si era dimesso... Di gilda... Della lega Izzet... E mi aveva lasciato il controllo... A quanto pare... Non è così... Cof... Cof... Jace... Ehi... Ce l'avete fatti... A... A polverizzare... L'abbati... No... Se l'hai mangiato... Rive Mizzet... Vorrei... Averle ho visti... Le... Le sue ultime parole... Altra assurdità sulla cometa... Non capisco perché ogni pazzo furioso... Di questa città... Si è ossessionato... Dalla cometa... In fin dei conti... È soltanto un gigantesco... Pezzo di ghiaccio... Che c'è? Che c'è? Aspetta... No... Un gigantesco... Pezzo di ghiaccio... La regina della follia... La madre prigioniera nel ghiaccio... L'antico flaggello... Marit Leij... E io ve l'ho spoilerato... Pensavo che avesse già detto... Giaia... Nello scorso capitolo... Che aveva spedito Marit Leij... Nel multiverno... Nella cieca eternità... Invece no... Ah ok... Credevo... Perché lei pensava... Di avere ucciso Marit Leij... E invece no... Ok... Nel peggiori dei casi... Si fosse persa... Nella cieca eternità... Ok... E invece no... Invece è qui... Che bello... Quando si leggono le storie belle... È sempre un piacere... Non vedo l'ora che arrivi venerdì... Per leggere... La guardia dei fratelli... Infatti mi sa che a un certo punto la sposterò... Anziché dover aspettare il venerdì... La farò tipo il giovedì magari... Non ci penso... Ehm... Dicevamo... Dicevamo... Capitolo 8... Capitolo 8... Capitolo 8... Non si piega... Ancora non si spezza... Tuttavia il peggio deve ancora venire... Una divinità nemica... Una stella del male... Che incombe sulla città... L'ascia di un carnefice... Che cala così lentamente... Da indurre alla follia... Marit Leige... Marit Leige... Cosa c'è? Riesco ancora a sentirla... A sentirla nella mia mente... Dice Jace... Non ricordo cosa mi hanno fatto... Dopo che mi hanno preso... Ma la sento ancora nella mia mente... Come un formicolio... Jace... Io non... Non sono bravo... Freconforto... Non è nella mia natura... Ma una cossa... Posso offrir... Posso offrirtela... Qualunque cossa succeda... Qualunque cossa vada fatta... Per fermare questa dea o regina dei demoni... Che sta per arrivare... Combatteremo insieme... La mia magia è con la tua... Il mio cuore è con il tuo... Che carino... E poi... Sono sicuro che Zarek... Troverà un modo per farla esplodere... Non riuscirò a farla esplodere... Grande giove... La lega Izet può fare saltare in aria qualsiasi cosa... Io posso fare saltare in aria qualsiasi cosa... Ma questo... È impossibile... Tu sei impossibile... Gli dice Tomic... Legge e precetto... Rall... Hai combattuto con mostri e seguaci tutta la notte... Ma ti riposi... Ti fai un bagno... No... Ti consumi su proiezioni e diagrammi... Mannaggia... Mannaggia... Marit Leij... Io ti amo... Ranzarek... Ma la tua genialità finirà per ucciderti... Se glielo consenti... Hai bisogno di riposo... Hai... Hai ragione Tomic... Per il dèi... Cosa farei senza di te... Ma... E i tuoi doveri verso la ginda? Verso Kaya? Chi pensi che mi abbia mandato qui? Ah... C'era la pubblicità... Vabbè... C'era la pubblicità... Ma voi aveste visto la pubblicità... Quelli che non sono abbonati... Hanno visto la pubblicità... O non è partito niente... E hanno continuato a sentire il dialogo tra Tomic e Rall... Fatemi sapere che l'altra volta... Giovedì uno dei discepoli in chat... Diceva che... Non aveva visto... Non era partita la pubblicità... Quindi... E non era abbonato... Quindi... Abbonatevi comunque... Per stare tranquilli... Abbonatevi ragazzi... Ecco... Dai che continuo a cascarmi tutto... Voi abbonatevi... Che così avete anche le live dedicate... All'argomento che preferite voi... Oddio... Oddio... Adesso riprendo eh... Un attimo solo... Fantasmi... Fantasmi... In genere si tratta di fantasmi... Una lama squarcia la carne ectoplasmatica... Ricidendo il legame tra lo spirito e il piano fisico... E bam... Facile... Missione compiutia... Ma sono flessibili... Devo esserlo in questo tipo di lavoro... Assassini... Assassini... Guerre delle gildie... Mostri mutanti... Va bene tutti... Abbatterò qualsiasi cosa che attacchi me... O i miei amici... O la mia casa... O la gente che dipende da me... E abbatterò anche te... Strana creaturia... In qualche modo... Perché è quello che faccio... Contaci... Uno... Due... Tre... Questa era bruttissima... Più tardi... La piazza del patto delle gilde... Non ci credo... Ora tu... Cagliare... Siete amici... Suppongo di sì... Le abbiamo passate molte insieme... Avere quei legami con altre persone... Ti fa bene... Mi fa piacere vederlo... Assudditi... I nemici... Alleati... Di tanto in tanto un amante... Che bisogno... Che bisogno posso avere gli amici... Ah sì... Ma certo... Scusatemi vostra maestà... Scherza pure quanto vuoi... Jace... Ma questo non mi rende meno regina... Forse potresti farmi da giullare... Beh... Riesco a farti ridere... In tutto ciò... Ricordiamoci che Jace e Brosca... Ancora non hanno scopato... Stanno parlando senza scopare... Incredibile... Eh Wiseman? Ma all'improvviso... Dalle loro spalle... Un mostro mutante di Marithlage... Li attacca... Io e Trempe l'Arel... Proprio come quando tutto è cominciato... Quando ha infettato il tuo cervello... Non era previsto che tu vivessi così a lungo... Ma è per questo che l'abate mi ha tenuto come riserva... Per prudenza... Solo per essere sicuri... Un braccio destro dell'abate... Il figlio prediletto di nostra madre... Le tue magie mentali non funzioneranno su di me... E ora farò il mio dovere per assicurarmi che tu faccia il tuo... In tutto ciò ci sono i Golgari che attaccano... Ma lui riesce a fermarli... Facciamo tutti la nostra parte per compiacere la madre Beleren... Perfino tu... Perfino... Viene colpito da qualcosa di misterioso... E poi... Una mano metallica... Che risplende di una luce violacea... Appare nella vignetta successiva... Ed è la mano di un tizio incappucciato dagli occhi altrettanto violacei... Viola rosino... Rosato diciamo... Ed è una mano da... Artigliata con tre dita... Fatta in Ethereum... Bene bene bene... Ne è passato di tempo ragazzo... E ovviamente chi può essere... A cuore mio... Cuore mio... Planeswalker preferito di sempre... Tezzeret... Poco dopo la camera del patto delle gilde... Tezzeret... Il criminale... Il traditore... Avanti... Suocatevi pure se vi fa sentire meglio... Ma ho appena salvato la vostra città... Alla faccia vostra... Spiegati... È semplice... Se Beleren muore a Ravnica... Ravnica muore con lui... Beh... Altri buggeri per il Joker... Uccidete questo uomo spazzatura e facciamola finita... Grida Borborigmos... Sei libero di provarci... Borborigmos... Ma penso che l'onorevole patto delle gilde... Sia più interessato a sapere... Come salvare la città... Che cosa vuoi Tezzeret? Che cosa voglio? Voglio essere libero di tornare a passeggiare... Per le vie di Ravnica... Di bere qualcosa alla stanza dei giochi rotti... Di godermi gli spettacoli alla casa della carneficina... Di studiare la biblioteca di Ismeri... Voglio la grazia da parte del patto delle gilde... Per i miei... Crimini... Ci sono Aurelia e Lavigna che se lo guardano malissimo... E in cambio vi aiuterò a salvare Ravnica... Ho dato la caccia ai culti di Marith Leij in tutto il multiverso... Per molto tempo... Ho smantellato i cervelli dei loro... Membri per reclamare ciò che sapevano... Conosco le regole... So come sfruttarle al nostro vantaggio... Allora... Che ne dite? Più tardi... Teros... Un piano di divin... Un piano di divinità e di mostri... Degli eroi che li servono... Li combattono... Una terra dove la fede diventa realtà... Non riesco a credere che il patto delle gilde abbia accettato una cosa del genere... Mi odia lo Zarek... Ma non al punto da lasciar morire la loro città... E questo li rende deboli... Vi confesserò un segreto... La grazia per me significa poco o nulla... Ma vedere i capi gilda di Ravnica ingoiare il rospo in quel modo... Chinare il capo davanti all'odiato Tezzeret... Non apprezzo... E ora voi dovete portarmi rispetto... Onorevoli maestri di Gilda... Certo... Ma siamo molto lontani da Ravnica Tezzeret... Sarebbe davvero un peccatio... Se dovesse capitarti qualcosa qui... Magari un incidente... Naturalmente... Ma poi non sapreste quello che volete sapere... Quanto è bello Tezzeret... Quanto è il più figo di tutti Tezzeret... Quanto è divino... Scusate... Devo vedere... Mi stavo perdendo... Stavo guardando una cosa... Mi ero perso nella mia... Beatitudine... Quanto è figo Tezzeret come personaggio... E almeno uno... Forse due di voi non tornerebbero a casa... Chiedete a Zarek... Come è andato a finire l'ultima volta che io e lui ci siamo scontrati... Basta... Raccontaci la tua storia Tezzeret... Come fa uno come te a sapere qualcosa sul Maritlage? Potere... Lo sapete che io bramo il potere... È la vera monetà del multiverso... Ma c'è potere e potere... Maritlage... C'è il potere tradizionale... Quello comune dello stato e dell'autorità... Quello della paura e dell'amore... Mi dovete dire che vogliamo vederlo col suo canonico corpo di Darksteel... Non vedo l'ora di rivederlo infatti... Magari in Thunder Junction... Lo troviamo lì a sparare alla gente... Col corpo di Darksteel... Non credo... Penso che non lo rivedremo per un bel po' Anche per chi... In questo... In questo momento l'arco narrativo sembra... Voler andare verso Ashok... Sembra che vedremo... Una contrapposizione diciamo... Tra Team Oko... Tra virgolette... E Team Ashok... Quindi quelli che sono amici di Oko... E quindi di Kellan... E quelli che sono amici di Ashok... E quindi di Eriette... Magari mi sbaglio... Magari Ashok è effettivamente... Alleato di Tezzeret... Anche chi lo sa... Magari fa tutto parte di un piano più grande... Ma secondo me Tezzeret... Per un po' non lo tireranno di nuovo fuori... Però io comunque non vedo l'ora di rivederlo... Quindi lui fa tutto il suo discorso sul potere... Che è proprio da Tezzeret... Tezzeret brama il potere... Proprio perché il potere gli ha portato via sua madre... E suo padre gliel'ha detto sempre... Se tu hai il potere... Puoi fare qualunque cosa... Solo chi ha il potere... Ha la facoltà di cambiare la propria vita... Voi altruisti potete fare finta che non sia vero... Ma noi siamo migliori di tutti gli altri... Mi sa che non l'abbiamo fatto sintetizzando Test of Metal... Ci devo pensare... Voi altruisti potete fare finta che non sia vero... Ma noi siamo migliori di tutti gli altri... Siamo Plainswalker... Abbiamo la possibilità e la forza di reclamare un potere... Che gli altri... Vincolati ai piani... Non riescono nemmeno a sognare... Ma a te non basta mai... Vero? Dice Jace... Che lo conosce bene Tezzeret... Certo che no... Perché dovrebbe... Voi quattro avete poca immaginazione... Ma essere un Plainswalker significa contemplare le meccaniche nascoste del multiverso... La scintilla del Plainswalker non è un dono... È una scala per ascendere al rango di divinità... Viene al Don Quetezzeret... Quanta impazienza Zarek... Un brutto difetto per uno scienziato... Questa Maritlage rappresentava il potere... Io ne volevo una parte... Era un nome in cui continuavo a imbattermi su tutti i piani... Non era semplice superstizione... C'era qualcosa là fuori che si protendeva dalla cerchia eternità... Tentacoli psichici che affondavano nelle menti degli stolti e dei fedeli... Trovai i suoi culti su Ixalan... Qui su Teros... Su Kamigawa... Su Innistrad... Su Innistrad... Tra parentesi... Quella non è stata una sorpresa... Cioè è scritto proprio così... Tra parentesi... Quella non è stata una sorpresa... Giustamente... Oh guarda che strano... Un mostro... Un mostro spaventoso... Ci offre protezione in cambio di venerazione... Ma certo... I can't mean... You son of a... You son of a bitch I'm in... Pensavano... Pregavano... Offrivano sacrifici... Facevano proseliti... E reclutavano seguaci... Obbedendo agli ordini che lei sussurrava nelle loro menti deboli... La loro venerazione brillava come un faro psichico... Per guidarla fuori dalla cerchia eternità... E riportarla nello spazio planare... Ma non bastava mai... Obbedivano ai suoi ordini con zelo... Questo sì... Questo sì... Ma anche in segreto... Quella segretezza era un fardello eccessivo... Per radunare un numero sufficiente di seguaci... Ma poi è nato un culto surravnica... Un culto abbastanza forte da richiamare la cometa dalla cerchia eternità... Grazie alla risonanza psichica della loro venerazione... Questo lo sappiamo tutti... Ma poi hanno catturato Jace... Esatto... Ma anche allora Marit Leij era smarrita... Disorientata dalla sua improvvisaria immersione della cieca eternità dopo tanti anni... Avevano bisogno di qualcosa che la tirasse a casa... Fino a Ravnica... Avevano bisogno di un telepate... Uno potente che la tirasse qui... Avevano bisogno di me... Voi pensate di aver schiacciato il culto di Ravnica quella notte... Vi sbagliate... Ce l'hanno fatta... Sono riusciti a strappare Marit Leij fuori dalla cieca eternità... Sono riusciti a forlirle una guida nell'ultimo tratto del suo ritorno in terra... Tu, Jace Beleren, sei il consorte di Marit Leij... La tua mente è legata alla sua... La tua mente è legata alla sua... E ti seguirà ovunque tu vada... No... No, non lo accetto... Puoi accettarlo o meno, regina degli oppressi... Ma è la verità... E sai bene... Che moneta preziosa sia una verità detta da me... Possiamo attirarla lontano da Ravnica... Ma finirà per atterrare da qualche parte... Se il culto mi avesse ucciso come aveva intenzione di fare... Allora avrebbe eseguito il tuo cadavere direttamente su Ravnica... E una volta devastata Ravnica... Avrebbe eseguito il richiamo di qualche altro culto... Facendosi strada fino a un altro piano... Ma non passeranno migliaia di anni tra una sua conquista e l'altra stavolta... Ora che è stata liberata dalla cieca eternità... Ora che è di nuovo cosciente... Il multiverso è il suo dominio... Vi avevo detto che disederavo parte del potere di Marit Leij... Non più... È troppo vasto... Troppo alieno... Marit Leij è incontrollabile... È possibile soltanto servirla in morire... E io non servo nessuno... Ho rispettato la mia parte dell'accordo... Dite al patto delle gilde che vi ho rivelato il modo per salvare la città... Informazioni che non avreste mai ottenuto da nessun altro... La cosa non vi piacerà... Ma questo non la rende meno vera... Ravnica può sopravvivere... Ma in un modo o nell'altro... Tu... Jace Beleren... Morirai... Quanto ci sta a godello in questo momento... Laboratorio di Tezzeret... Uno dei tanti... Ha il patto delle gilde umiliato... Mondo in pericolo... E Jace Beleren... Con un cappio al collo... Tutto procede a meraviglia... Tutti i piccoli ingranaggi girano l'unisolo... Tic toc... Tic toc... Se qualcuno pensasse... Che ho pianificato tutto io... Non potrebbe asimarlo... Perché in effetti è così... Sapete cosa? Allora abbiamo fatto neanche un'ora di live... Quindi sì... Andiamo avanti ancora con la lettura... Però... Il fumetto qui in realtà appunto ci lascia questo... Cliffhanger diciamo... Di Tezzeret che dice che ha pianificato tutto... Ok? E poi passa direttamente al capitolo 9... In cui vediamo... Diciamo spoiler... Ma non è proprio... Spoiler senza fare spoiler... I nostri eroi che cercano di risolvere la situazione... Io però direi che a questo punto... Vale la pena capire... Come Tezzeret abbia pianificato il tutto... E' più interessante secondo me capire prima... Come Tezzeret abbia pianificato il tutto... E cosa voglia fare... E poi continuare con... I planeswalker che viaggiano... E cercano una soluzione al problema... Quindi... Prendo un attimo il numero... Speciale... I planeswalker nascosto... E arrivo... Ah... 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 Ora... Il planeswalker nascosto in realtà è un numero speciale... Che appunto raccoglie diversi... Diversi speciali... E racconta sia la storia del piano di Tezzeret... Sia una storia... Che ha... Ehm... Diciamo... Che avrà importanza in seguito... Ok? E' un po' il punto di connessione tra la prima saga e la seconda saga... E' un po' come dire... E' un po' come... E' un po' come... E' un po' come... E' un po' come se fosse il Drain... E' un po' come se fosse Aftermath ed il Drain insieme... Ok? E' un po'... Un passo nel passato... Un piede nel passato... Un piede nel futuro... Però noi leggeremo solamente... La parte... Il capitolo appunto dedicato a Tezzeret... Perché appunto... Prima c'è il Maestro del Metallo... Che è il capitolo appunto dedicato al piano di Tezzeret... Master of Metal... E poi c'è il Planeswalker nascosto... Ma noi faremo così... Leggeremo il Maestro del Metallo... Poi riprenderemo l'altro numero... Il numero... Oddio... Forse no... No? Sì, sì, sì... Maestro del Metallo... Poi riprendiamo il capitolo 9 e il capitolo 10... Quelli ufficiali diciamo... E poi ritorniamo sul Planeswalker nascosto... Per poi ricominciare con gli altri capitoli successivi... Mi sa che ci interromperemo a un certo punto del Planeswalker nascosto... Vabbè... Vabbè... Per ora andiamoci a leggere il Maestro del Metallo... E poi penserò io come sistemare la situazione... Faremo un po' di... Su e giù diciamo... Tanto sti cazzi... Cioè nel senso non è che nessuno ci obbliga a seguire per forza... I capitoli... Anche perché in America in realtà... I fumetti... La Panegna ha racchiuso... Ok? Ha racchiuso le diverse... I diversi numeri... In America... Non so se lo sapete... Negli Stati Uniti comunque i fumetti in generale... Funzionano in maniera un po' diversa da noi... Sono un po' più... Sono molto piccoli... Escono più... Io non sono un esperto... Non so descriverlo bene... Però escono... Questi fumetti in particolare sono usciti a capitoli... Ok? Il numero 1 conteneva il capitolo 1... Il numero 2 il capitolo 2... Il numero 3 e così via... Ehm... Non so... Non mi ricordo se erano mensili oppure no... Però comunque... A un certo punto... Prima dell'uscita del capitolo 9... Esce appunto Master of Metal... Maestro del... Il maestro del metallo... Che la Panini... Ha poi raccolto... In un diverso... In un numero diverso... La Panini ha raccolto... Non so per quale motivo onestamente... Non ho idea... Anziché... Mettere il Prince Walker... No il Prince Walker nascosto... Anziché mettere il Maestro of Metal... All'interno del... Prima del capitolo 9... L'ho messo appunto in un... In un diverso numero... In un diverso... In una diversa raccolta... Perché di Panini sono scelti appunto quattro numeri... Ehm... E sono raccolte... Appunto il primo numero conteneva fino al capitolo 5... Compreso... Il secondo contiene fino al capitolo 10... Il terzo è il Prince Walker nascosto... Il terzo è il Prince Walker nascosto... Che sono comunque quattro numeri in America... Erano comunque quattro numeri... E uno di Maestro del metallo... Quindi sempre cinque numeri... Cinque uscite... E il terzo volume... Il terzo volume contiene dal capitolo 11 al capitolo 15... Forse 16... Forse 16... In ogni caso... Appunto c'è questa differenza... Che noi abbiamo avuto le raccolte... Noi abbiamo ancora le raccolte... In America sono usciti e continuano ad uscire... A... Singolarmente... Numero per numero... Non saprei dirvi se è meglio l'una cosa o l'altra... Se è meglio l'una o l'altra cosa... Considerando che comunque... Cinque numeri... Sono praticamente 20 euro... Che è il prezzo di uno di questi fumetti... C'è una delle raccolte... Quindi... Penso che più o meno sia ok... Però appunto... Avranno avuto una ragione... Per non mettere le Master of Metal... Prima del capitolo 9... Noi però... Faremo comunque... Come cazzo ci pare... Allora... Fatemi... Cercare... Un'arte di Tezzeret... Ah... Piccola... Altra piccola parentesi... Per capire... Come... Facciamo un brevissimo... Reassunto... Di come Tezzeret... Perché Tezzeret ce l'ha con Jace... Tezzeret... A un certo punto nella storia... Prende il controllo del consulso... Il consorzio infinito... Una banda di criminali... Costruita da J... Da... Bolas... Che aveva... Cellule in tutto il multiverso... Diventa leader... Cerca un princewalker potenti... Da poter... Che possano lavorare per lui... Tezzeret... Trova Jace... Incontra Jace... Convince Jace... A destrarsi con lui... E diventare quindi un membro del consorzio infinito... Succedono cose per cui alla fine... Jace tradisce il consorzio... E distrugge la mente di Tezzeret... Facendogli perdere tantissime memorie del consorzio... Un sacco... Insomma... Glielo lascia praticamente moribondo... Alla mercede Nezumi di Kamigawa... In coma magico... Nel senso... Gli ha letteralmente... Fatto... Esplodere il cervello... Praticamente... Finché Bolas... Non lo recupera... E lo rigenera... E lo riporta in vita... Diciamo... Tra virgolette... Non proprio in vita... Ma lo riporta tra di noi... Lo riporta... Gli dà coscienza... E... Per usarlo su Mirrodin... E poi come... Per il... Porte planare... Ponte panente... Ponte P... Tappe tappe ruggia... E poi su Ravnica... E sappiamo tutti come va a finire... Per quello quindi... Tezzeret e Jace... Si odiano... Jace perché vede in Tezzeret appunto... Una persona... Malvagia... Che gli ha fatto solo del male... Tezzeret perché vede in Jace... Colui... L'artefice della sua rovina... Se vogliamo... È colpa di Jace... Se poi Tezzeret... È stato costretto... A tornare strisciando da Nicole Bolas... In un certo senso... Fatta quindi questa importante parentesi... Direi di tornare alla nostra storia... Il maestro del metallo... Ravnica... Anni fa... Altri bozzetti... Padrone... Questo è un... Automa... È un automa... Un golem... Che però faremo parlare in maniera differente... Da Niv-Mizzet... Altri bozzetti... Padrone... Il mio nome è Tezzeret... Mi chiamano il mago del metallo... Di che si tratta... Solo scarabocchi... Per lo più... È un esercizio che faccio... Quando un problema mi blocca... Ma se ti senti indulgente... Potresti definirli... Bozzetti di ogni cosa... Ogni cosa... Sono stato un inventore... Un planeswalker... Un generale... E una vittima... Non mi piace criticare... Padrone... Ma credo che abbia saltato un pezzo... Non ogni cosa in quel senso... Ma a me piace definirmi un ingegnere... Uno studioso della realtà... A quale scopo... È l'architetto di una nuova realtà... Di mia concezione... Non fa mai male ricordare a me stesso... Quanto sono insignificante... Lei non è insignificante per me... Ovviamente... Ti ho creato... Ma per il multiverso... Sono meno di niente... A nessuno piace sentirsi irrelevante... Nemmeno a me... La gente dice che spunta il sole... Quando in realtà intende il mondo... Su cui mi trovo... Si è girato verso di esso... Oppure parla dell'allineamento... Delle stelle... Come se la posizione del proprio mondo... In una danza del genere... Significasse qualcosa... Parlano di essere... Maledetti o benedetti... Come se un qualsiasi dio... Li degnasse di un solo pensiero... O addirittura di qualche potere vero e proprio... Parlano di destino... Soltanto per fingere che le loro vite... Siano necessarie... Per la realizzazione di un grande progetto... La tentazione di credersi... L'asse del multiverso è forte... Quando sei l'asse della percezione... Che hai di quel multiverso... E quella tentazione... Ancora più forte... Per i prince walker... Dopotutto... Possiamo balzare da un piano di esistenza... All'altro in un batter d'occhio... In confronto a qualsiasi dra... Mago... Defendetene a un potere impossibile... Perché non dovremmo essere il fulcro... Della realtà stessa... Alcuni sono sicuri di essere gli eroi della storia... I cercatori del Karmot... Che mi hanno respinto così tante volte... Sicuramente lo credevano... Il mio vecchio maestro... Nicole Bolas... Sapeva di essere malvagio... Ma la cosa non gli impedì... Di atteggiarsi a divinità... Per compensare la cosa... Anche il meno valoroso di tutti... Di tutti noi... Sa che la nostra natura più debole... È solo temporanea... Avevo capito che il mio ex apprendista... Jace Beleren... Tramava per uccidermi anni prima... Che sviluppasse soltanto il pensiero... Di potermi sfidare... Quel ragazzo aveva veramente il cuore di un assassino... Per quanto si sforzasse di nasconderlo... È stato sconfitto da lui... Padrone... È per questo che si considera impotente... Irrilevante... Sconfiggere Jace... Mi sarebbe costato più di quanto fosse disposto... A pagare... Quanto al potere... Possiedo una certa quantità di potere... Questo è certo... Ma sono sempre pronta a migliorarmi... Quanto alla mia irrilevanza... Mi è stata sempre... Mi è stata resa abbondantemente nota... In più occasioni... Ma anche essere rilevante è un valore... So che la mia esistenza... Conta solo per me... Che non è mai garantita... Ecco perché... Nonostante tutti i tradimenti... Che ho dovuto affrontare... Sono sopravvissuto... Laddove molti altri sono caduti... Non metto niente... Nella fama... Nell'orgoglio... Nemmeno la vittoria... Niente al di sopra della sopravvivenza... D'altro canto... Questo non significa... Che io non voglia qualcosa in più... Solo che so cosa sono disposto a sacrificare... Pur di ottenerlo... Ora basta domande... Non voglio arrivare tardi al mio appuntamento... Certo che... No padrone... Stia fermo per favore... C'è una scena terribile... In cui l'automa... Prende un pezzo... Un ago... E glielo sta infilando nell'occhio... A desert... Mamma mia... Io ci soffro un sacco... Non so se avete mai giocato a Dead Space 2... Ma porca puttana... Non avete idea... C'è quella... C'è un momento... Nella storia... Che dovete infilare... Un ago nell'occhio del protagonista... E... Dovete fare lo... È terribile... Cioè... È più... È meno terribile... La scena in cui sbagli... E... Se tu sbagli... E vai troppo veloce... E non c'entri l'occhio... La macchina... Distrugge la... L'orbita del protagonista... Ok? In uno schifoso grumo di sangue... E ossa spezzate... Se invece... Però quello è ok... Se invece andate precisi... L'ago si infila... Oddio... Il solo pensiero non uccide... Ma... Dimentichiamoci di questo... E andiamo avanti... Col prossimo... Capitolo sempre... Del maestro di metallo... La mano destra di Dio... Come osi... Fuori di qui... L'hai ucciso... Era ferito... Il bassifondo di Ravnica... Ma non sarebbe morto... Se non fosse stato per i tuoi esperimenti... Dice una tritona... Quella che sembra una tritona... Era già mezzo morto... I miei esperimenti... Gli avrebbero allungato la vita di dieci anni... Se solo avesse seguito a dovere le cure... Non accetto lezioni da un pesce senza cervello... Nessuno di voi... Nessuno di voi... Ma nessuno è pronto a pagare nel presto... Perfino l'alleanza... Non ha più il fegato di ambive alla grandezza... Da molto tempo ormai... E ora che sono senza Gilda... Posso cuvare un uomo... Anche senza fare parte... Della alleanza simic... Non ti danno un celovello... Insieme a quel pomposo distintivo... Spero che sia vero... Perché ho bisogno del tuo aiuto... Non sono un malvivente... Gvuld di bassa lega... Che ben alle fiavite... Di una vissa da taverna... Non puoi comprare la mia arte... Offendomi da beve... Certo che no... Era solo un gesto di cortesia... Mia madre non mancava mai... Di sottolineare... Quanto fosse importante... Mostrare rispetto al prossimo... E il pagamento... Non sarà un problema... Questo non copriva... E buaccio... Le puotesi sono volubili... Almeno quelle che vale la pena... Di innestare... Oh... Quello l'ho perso tanti anni fa... Schiacciato da un ingranaggio... Ma all'occhio... Quella è un'altra storia... Sì... Cosa è successo... Con l'occhio... Mi chiamo Belakin... Sono un uomo delle pulizie... Ovviamente Tezzet... Lavoravo per la lega Izzet... A quanto pare... Gli scienziati pazzi... Sono troppo importanti... Per farsi le pulizie da soli... Stavo rettando... L'ordine del laboratorio... Di uno studioso... Della... Cieca... Eternità... La cieca eternità... Io non ci capisco niente... Pulisco e basta... Insomma... Sentì qualcosa... Che mi chiamava dai suoi macchinari... Quella notte... Vedi solo un'occhiata distruggita... Ma... La cosa successiva che mi ricordo... È che mi svegliai... Steso a terra... Con un mal di testa devastante... E che non ci vedevo più da un occhio... Il mio capo mi licenziò... Urlandovi che... Avevo rovinato anni di lavoro... Con l'obiettivo di contattare qualcosa... Io inizia a sentire una voce... Voci... Una sola... Diceva cose stranissime... Parlava di potere... Di un potere inconcepibile... Non sono pazzo... Ma nessuno de Simic o de Selesnya... È disposto a vedermi... L'ultima punizione del mio capo... Si è sempre vantato... Di poter muovere i fili... Delle altre gilde... Non preoccuparti... Soltutto della tua... Sulla... Sulla... Corruzione delle gilde... È un po' umbriaco... E la procedura... Dovrebbe essere molto lineare... Sai che... È venuto... Nel posto giusto... C'è qualcosa là dentro... È difficile da vedere con la luce... Ma... Sembra... Quasi che si collega... Il tuo sistema nervale... Se avessi ancora il mio... Non ce la faccio... Il mio equipaggiamento... Potrei studiare il collegamento... Ma... Stringi forte la sedia... C'è un momento... In cui questo stronzo... Mette la pinzata... Mi fa male il suono... Di scriverlo... Nell'occhio... In tezzetto la pinzetta... Per estrarre una scheggia... Nel momento in cui... Estrae una... Questa scheggia... C'è un rilascio di energia... Spaventoso... Ah... I miei occhi... Perché... Considerate che io... Gli occhi sono sensibilissimi per me... Non riesco neanche a indossare le lenti a contatto... Perché secondo voi vado in giro con gli occhiali? Cos'è va con l'energia? Il mio occhio... Non c'è bisogno di fare tante scene... Ormai l'ho estratto... Tieni per l'omovagia... Tornando male ti installeremo una protesi... Ma... Vattene... La fede è qualcosa di curioso... Un modo per si eccitare un potere che non ti appartiene... E quando hai avuto il potere lo hai perso... Quando hai bisogno così forte che non riesci a ritrovare l'equilibrio... Anche un potere preso in prestito è meglio di niente... Mia signora sono tua... Mia signora sono tua... Quando conosci la macchina i risultati che produce sono sempre prevedibili... Buone notizie padrone... Notizie previste ma non spiacevoli... Chi non vorrebbe diventare il braccio destro di una divinità? Questo va un po' oltre la mia comprensione padrone... Ma venga prendiamoci cura di quell'occhio... Grazie a Dio lo smettono di fare cose con l'occhio... Mesi fa sono passati anni da quando l'uomo delle pulizie degli IZ fece visita a un medico caduto in disgrazia... Un medico che divenne l'abbate di un dio di cui nessuno aveva sentito parlare... Tra l'altro questa cosa è che sono passati anni... È possibile che questi fumetti siano ambientati più tardi rispetto a World's Park... Ok? Magari sono contemporanei agli eventi che nel nostro mondo sono quelli di March of the Machine... O ancora di più... Potrebbero essere ancora più futuri... Potrebbero essere eventi anche successivi e che per noi equivalgono all'Homen Path Arc... O magari al Dragon Storm Arc... Ok? Potrebbero essere anche eventi futuri... Di un futuro alternativo chiaramente dove le cose sono andate diversamente... Dove ancora non c'è stata nessuna invasione firexiana... Del multiverso... E in cui appunto Marit Leige invece era a spasso per la certa eternità... Sono passati anni da quando l'uomo delle pulizie degli IZ fece visita a un medico caduto in disgrazia... Un medico che divenne l'abbate di un dio di cui nessuno aveva sentito parlare... E Marit Leige divenne la nostra signora del cuore di ghiatto... Holdò l'ospedale... Poi fondò un movimento... Proprio come avevo previsto... Mi perdoni... Mi scusi per il disturbo padrone... Il suo tè... Il tuo ginocchio... Fammi dare un'occhiata... Oh è solo un piccolo fastidio... Non voglio farle perdere tempo... Sciocchezze... Io mi prendo cura delle mie cose... E un assistente danneggiato non mi servirebbe a nulla... Nella ricerca del potere... Questo dovrebbe funzionare... A meno che la tua lega non sia indebolita... Se dovesse succedere ancora... Non possiamo mai dimenticare le nostre debolezze... Scusami... Bi... 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 Padrone... Terzo capitolo... Quello che è mio... Ravnica... Fuori dal ricovero di Gisbel Eren... Uffa... Mi aspettavo qualcosa di più grosso... Gisbel Eren... Le prime di mele... Tenepate più potente che sia mai esistito... Scoperto che si crede di essere anche un uomo del Papa... Infatti stavo proprio per commentare... Lo squallore assoluto che ci circolla... Disgustoso... Sarà anche un tenepate... E forse potrà anche raggiungere altri mondi... Come dicono... Ma resta per sempre un uomo... Sanguilerà come tutti gli altri... Dicono un azorio... Su un grull... Un goblin... E un tizio... A caso... Anche il piano di un medicoloso... Deve prevedere delle opzioni di contingenza... Una risorsa non protetta... Una risorsa inaffidabile... In un mondo controllato dalle gilde... E senza gilda di Ravnica... Sono figure ignote e indesiderate... E sempre più determinate a cambiare le cose con la violenza... Anche a me piace la poliolenza... I tizi... Gli invasori... Entrano in una casa... Che si suppone essere di Jace... Ma attivano una trappola... Spero vi siate puliti i piedi... E tu che croc sei... Per tutta la risposta... Tenzelet lo... Lo impala con il suo braccio metallico... Uccidetelo... Cerchiamo di non fare troppo rumore... Aspettati prego... Rosa di libertardo... So via... Sei tu l'assassino... Ricordi? L'eschio mi ha rinunciato a tutto per me... E tu l'hai uccisa... Ah... Lex Azorius... Suppongo che voi due foste intimi... Che vi amaste? Difficile immaginare che Casadimiro e il senato approfassero la cosa... E' per questo che vi hanno buttato fuori a calci dalle gilde? Ce ne siamo andati noi... Per poter stare insieme... Le gilde stanno distruggendo la rabbica... Devono essere fermate... E in che modo uccidere Jace Belair... E non risolve la situazione? Non ha più nessun potere qui... Non è nemmeno rabblicano... E' per questo... E' per questo che è perfetto... Le gilde sono talmente ossessionate... L'una dall'altra... Che se uccidessimo uno dei loro capi... Non crederebbero mai... Che sono stati senza gilde a farlo... Il magomentale invece è legato ad almeno tre gilde personalmente... Ucciderlo dimostrerebbe che nessuno di loro è al sicuro... Ora ti riconosco... Sei in combutta con quel GP medico senza gilde... E' il suo piccolo culto, non è vero? Cosa? Io? La vostra dea sarà anche abbastanza forte da spodestare le gilde di rabbica... Ma un planswalker come Belairn... Come me... E' al di sopra di questo misero mondo... Altri potranno tremare... Ma noi non temiamo Maritlage... Chi è Maritlage? Chi sei tu? Tu non sei rabblicano? Non con un graccio come quello? Perché proteggi Belairn? Cosa rappresenta per te? Vedo un grande potenziale... Flashback di Tezzet... Vedo un grande potenziale in te ragazzo... Non capita tutti i giorni che io accetti un apprendista... Non farmene pentire... Tra l'altro qui vediamo in realtà una situazione differente... Tezzet lo chiama apprendista... Quindi possibilmente... Non lo ha trovato per strada... Per farlo entrare nel consorzio... Ma lo ha fatto diventare proprio il suo apprendista... Esatto... Anzi ben fatto... Jace... Jace... Traditore... Peraltro anche questa scena in cui... Jace lo sconfigge... E gli taglia il braccio di Ethereum... Sembrerebbe ambientata sul mondo desertico... Mentre in teoria dovrebbe essere ambientata su Kamigawa... Lui mi è utile... Torna dal tuo medico pazzo e digli che la gente soffre... Quando tocca ciò che è mio... Certe vite si legano con la tua... Non si incrociano al tuo sentiero... Soltanto al tuo sentiero come trama... E ordito... Ma si intrecciano interamente e ineluttabilmente... Jace Belair morirà quando lo deciderò io... E non un momento prima... Ora... Slekshaven dove si trova padrone... Su un altro piano... È una scuola di maghi... Ci lavora una vecchia collega... Oh... Fa sempre rivedere... Piacere di vedere i vecchi amici... Vero... Sono intorno tra tre ore... Dammi per morto... Casa... Slekshaven nel piano di Arcavios... Tezzeret arriva... Penetra nelle stanze di qualcuno... Evoca un golem di... Un piccolo demonetto... Diciamo di Ethereum... È vero... La conoscenza è il potere... Ma è più vicino all'energia... Che l'autorità... Per restare... Può restare assopita per... Ah no scusate... Non è un demonetto di Ethereum... È uno dei custodi del Biblioplex... Può restare assopita per secoli... Per poi esplodere nel giro di un istante... E diffondersi... Come un incendio nei campi... Ah... Eccoti qui... Presumendo che scocchi... La scintilla giusta... Rubare libri dalla biblioteca... Tezzeret... È un nuovo livello di bassezza... Persino... Perfino per te... Dammi il libro Liliana... Per te non significa niente... Appartiene a Slekshaven... Come il bibliotecario che hai massacrato... Un motivo più che sufficiente... Per uccidere un po' di fogna cromato come te... Dovresti avere imparato... A non fare promesse che non puoi mantenere... Vecchia come sei... Effettivamente Liliana è più vecchia di Tezzeret... Non ci ho mai fatto... Non ci ho mai riflettuto... Ma è così... Ah... Ho toccato un nervo scoperto... Vero? Ah... L'età è solo un numero Tezzeret... Non è ancora finita... Mio caro... Sono la necromante... Non è mai finita... E Tezzeret scappa... Ora vediamo cos'è che valeva tutta questa fatica... La conoscenza è potere... L'abbraccio del ghiaccio... Una corona... Una cronaca di... Marit Leige... Come l'energia... Marit Leige... Ho già sentito questo nome... Chi ti ha messo... Chi ti ha messo... Questo nome... Un idiota... Babal... Puzziente... Deve essere convogliata con precisione... Deve essere convogliata con precisione... Per ottenere il risultato desiderato... E anche in quel caso... C'ha un prezzo da pagare... Padrone... Mamma mia... È tutto molto male... Sono sempre... Andato fiero... Di essere un sopravvissuto... È tutto a posto padrone... Ci sono qui io... Carino lui... Carino... Simpatico... Carino... Si prende cura il robot di Tezzer... Non morirò... Un passo dal trionfo... Pensa di potersi alzare in piedi padrone... Tutto procede secondo i piani... Mi perdonerà padrone... Ma sembra che i suoi piani... Prevedano un notevole ammontare di dolore fisico per lei... Il ginocchio continua a fare rumore... Il successo esige dei sacrifici... E fallimento... Non ha recuperato il suo libro da Strixhaven... Non avevo bisogno di un libro di Strixhaven... Avevo bisogno che Liliana Vess pensasse che io volevo un libro di Strixhaven... Non capisco... Lei voleva che Liliana sapesse di un libro che era già in suo possesso... Quando fornisci informazioni a un soggetto è bene farlo faticare un po'... Liliana è intelligente... Ma anche se sospetta che voglia attirarla da qualche parte vorrà sapere perché... Non rischierà che qualcuno predisponga una trappola di cui lei non sa niente... E così le finirà dritta nella mia... Jace o forse Ravnica l'attireranno invece mia... Liliana Vess sarà presente per assistere al ritorno di Marit Lage... E forse sospetterà perfino che sia la fase finale del mio piano scellerato... E non sospetterà mai che invece è solo l'inizio... Il tuo ginocchio... Cigola di nuovo... Poi mi diverte... Si ha ricominciato mentre la medicavo... Immagino che la lega sia un po' allegorata... Logorata... Ma del resto nessuno è perfetto... PRAAM! E Tezzeret gli è parte... Letteralmente gli spacca la faccia... CRUNCH! Con il suo braccio di Ethereum... Ci sarà anche io faccio casino parlando... Però pure vicini... Hai ragione... Nessuno è perfetto... Almeno non la prima volta... E quindi Tezzeret... Tanto caruccio... Tanto simpatico... Il suo... Automa... E Tezzeret l'ha ammazzato così... Oh mamma mia... Ok... Direi che allora... Settimana prossima... Continuiamo con il capitolo 9... E il capitolo 10... Perché comunque... Ci siamo fatti un'ora e venti di live... E... A fare Tezzeret... Ho perso un po' la voce... Sì... E poi comunque i capitoli 9 e 10... Alla fine sono molto legati tra di loro... Quindi settimana prossima... Capitoli 9 e 10... E poi vi tengo aggiornati... Su cosa... Come facciamo... Come andiamo avanti... Con i fumetti boom... Vi ricordo di fare la sub qui... Per ottenere una live... Dedicata all'argomento che preferite... Se... Ci sono domande... O idee... O... Qualcissiasi cosa... Ehm... Resto ancora un po' in chat... Anche solo per... Cazzeggiare un pochino... Continuiamo a mettere Esperba... Un po' in chat...